Andiamo alla villa? Ehi, ti ho detto che ho sentito che va chiuso tutto, pur la villa. E allora lasciami scendere che vado a fare una passeggiata in piazzetta. E vado, 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 vado a fare una piazzetta. Anche Will Smith, doppiato da Don Vito Piccinonna, ricorda a tutti che in questi giorni sarà impossibile accedere alla villa comunale e che è sconsigliato passeggiare anche sulle nostre piazze. Il simpatico video, rilanciato da Michele Abaticchio sulla sua pagina Facebook, nasce infatti all'indomani dell'ordinanza sindacale di chiusura di tutti i parchi e cimiteri cittadini, disposizione a cui si è aggiunta proprio oggi anche la chiusura di Piazza Moro. I provvedimenti si sommano al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo, che ha imposto la momentanea sospensione di buona parte degli esercizi commerciali. A restare aperti sono farmacie, ipermercati, supermercati e negozi di prossimità alimentari, distributori automatici, tabaccherie, edicole e altre attività giudicate dal Ministero, essenziali o non a rischio. Tutti dovranno garantire la distanza di sicurezza di un metro tra clienti ed evitare gli assembramenti. I servizi di ristorazione sono invece consentiti solo a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Indispensabile è limitare quanto più gli spostamenti e uscire solo per lavoro, necessità o motivi di salute. Giustificazioni da fornire, mediante autocertificazione, alle autorità impegnate in queste ore in posti di blocco e a vigilare sul rispetto delle regole. È utile ricordare che non è obbligatorio avere al seguito l'attestazione, ma è solo consigliato per velocizzare i controlli. La raccomandazione è dunque quella di restare a casa, a chiederlo in ginocchio anche il nostro sindaco. Non c'è più tempo, adesso non c'è davvero più tempo. Stiamo per raggiungere il picco in regione, questo dicono le statistiche, questo dicono i medici del virus, ed è necessario, fondamentale, che le nostre case diventino la nostra piazza, il nostro punto di incontro e che le tecnologie possano poi soddisfare la naturale esigenza di confronto con il prossimo. Ve lo chiedo, se volete ve lo chiedo in ginocchio. Per favore, restate nelle vostre case, usciamo solo se estrettamente necessario.